Ciao ragazzi, oggi brindiamo con Energy Group, un ritorno in grande stile al Cosmogop dopo un anno di transizione, possiamo dire, ma buffet, luci LED, total white, fantastico, ma abbiamo qua l'uomo marketing del Energy Group commerciale di Energy, Alberto Zambelli. Ciao a tutti, che tutti conoscete, che anche tu fai parte della Galassia Energy Group per quanto riguarda il brand. Per quello che riguarda Big e quello che riguarda Universal Beauty Innovation, Beauty Pioneers, per cui facciamo ricerca e sviluppo e insieme con Alberto qua che va sul mercato a promuovere le nostre marche e qui abbiamo qui il Cosmoprop, un stand dedicato a Innovation. Innovation Group, diciamo cos'è, perché Innovation Group, Innovation Group, di quali là? Sì, Universal Beauty Innovation è un gruppo di persone di vari campi che uniamo a lavorare nella ricerca e sviluppo con scienziati in tutto il mondo, con laboratori in tutto il mondo e anche con i nostri laboratori interni sullo sviluppo di nuove materie prime, nuovi prodotti, nuove formule, nuovi concetti della bellezza che poi si formano e diventano linee di prodotti o prodotti sia in primo, sia per noi stessi, ma anche sia per conto terzisti. Per esempio, Big è un neonato da Universal Beauty Innovation, dal gruppo di innovatori, con tutte le ultime tecnologie che abbiamo sviluppato nel laboratorio. Per cui, Big Professional fa parte delle innovazioni, come vedete voi anche dietro, sui pannelli ci sono nuovi concetti di prodotti, nuovi concetti di formula, materie prime, che presentiamo nel mondo della bellezza, sia per poi sviluppare i prodotti in proprio e anche per il conto terzismo. Alberto, dai, programmi del gruppo quest'anno? Programmi del gruppo di quest'anno ovviamente sono quelli di andare a toccare con mano quella che è la realtà del salone, della strada, abbiamo ampliato la nostra forza vendita, presto saremo molto più presenti sul mercato italiano, poiché col mercato estero ormai già ci conoscono in 130 paesi, abbiamo dei brand importanti da promuovere, far conoscere, tra cui Big appunto, parte del nostro gruppo è anche dedicato anche a un'esclusiva di distribuzione in Italia del marchio Bumble & Bumble, quindi comunque siamo anche con realtà internazionali, esatto, marchi importanti che comunque denotano anche la solidità dell'azienda per quanto riguarda ovviamente la struttura propria, anche di innovazione e collaboriamo anche con loro per lo sviluppo di nuovi prodotti. Un'altra cosa da parlare, molto importante, è che qui siamo qui anche per fare il networking, perché Universal Beauty Network è un pool di aziende che collaborano con noi a livello di ricerca, a livello di materie prime, per cui noi stiamo anche sollecitando e collaborando qui in fiera con tante aziende del settore, dalla materia prima, produttori vari, che potrebbero essere visti dall'esterno anche come concorrenti, ma invece collaboriamo insieme sulle realizzazioni di nuove idee e nuovi modi di anche esporre, comunicare, sviluppare. Per affrontare i problemi che ci sono oggi. Assolutamente, sempre con la consumatrice centro. Al centro, al centro. Come provo per rendere per lei una qualità di un prodotto maggiore. Esatto, per cui se siete anche un'azienda, produttore di materie prime, se siete in un laboratorio di ricerca e sviluppo, di produzione e vuole fare parte di questo network di innovation, viene a trovarci qui in pavidione 25, stand B24. Oppure trovarvi sul vostro sito, su tutti i contatti. Esatto, viene a trovarci. Sito? Sì, allora ci sono Universal Beauty Innovation, si trovi online, ovunque, e anche NG Group. NG Group, che è ancora più semplice come nome. U-B-I, in senso U-B-I-E-N-G Group. E si trovi tutta l'informazione per come collaborare con noi. Ora venite a trovarci qui in 25, stand B24. Quindi da trovarli se trovate posto, perché al di là che ci operano da bere, proseguire e tutto il resto, vedo parecchio fermento ai tavoli. Cioè non sono qua soltanto a mangiare. Oggi abbiamo avuto prima giornata, ma abbiamo avuto sicuramente un grande interesse di distributori, soprattutto nella zona Middle East, Medio Oriente, Paesi Arabi, molto interessati, anche perché comunque anche il nostro gruppo sta andando verso quella che è un'etica, anche halal, vegan, quindi bio. Quindi un'attenzione particolare sulla natura. Assolutamente sì, tant'è che anche lo stesso concetto di Big, che è quello di fare grandi formati per andare a ridurre quello che è lo scarto, lui ha dato l'input su questa scia e anche altre brand del gruppo stanno andando a ruota. Con quella filosofia, magari utilizzando altre soluzioni che non è il formato grande, che è una delle peculiarità Big appunto, però con altri tipi di soluzioni per una sostenibilità. Sì, però tutto senza siliconi, tutto assolutamente... Con la massima attenzione all'azienda, all'ambiente scusate. All'ambiente e alla persona, perché ricordiamoci che la consumatrice bisogna vederla proprio come una persona, con le sue richieste, deve essere ascoltata e deve essere in grado di proporre delle soluzioni, delle risposte a soddisfare i suoi bisogni di bellezza. Deve sentirsi bene, a prescindere dal prodotto, deve essere proprio sicura di quello che oggi la cliente si mette in testa. Bravo Alberto, perché noi siamo nel business di beauty, e per cui dobbiamo dare luce e dobbiamo dare felicità, perché questo è il nostro mission. Un brindisi alla bellezza. Un brindisi, intanto io approfitto ragazzi, alla bellezza. Ciao a tutti.